E in arrivo un cambiamento sulla nostra regione. Correnti umide sud-occidentali nei bassi strati dell'atmosfera interesseranno la nostra zona fra sabato e domenica. Pertanto nella giornata di sabato avremo in cielo prevalenza coperto su pianura e costa con possibili deboli piogge sparse, specie sulla zona orientale. Saranno possibili durante la notte delle foschie e delle nebbie e saranno possibili anche delle deboli nevicate sulle prealpi giuglie, intorno ai 1.300 metri di quota circa. In montagna nelle zone più interne e un po' più distanti dal mare avremo tempo migliore con nuvolosità variabile e bassa probabilità di precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature resteremo sui valori attuali con massimo intorno ai 10 gradi sulla pianura e sulla costa. Nella giornata di domenica passerà un veloce fronte in quota che porterà a un aumento dell'intensità del vento ma soltanto alle quote molto elevate. Nei bassi strati continueremo ad avere correnti da sud ovest, umide che porteranno ancora a cielo da nuvoloso a coperto su pianura e costa con possibili deboli piogge sparse sempre sulle zone orientali. In montagna potrebbe esserci qualche debole nevicata, oltre i 1.300-1.400 metri di quota circa, ma si tratterà di un episodio piuttosto isolato. Lo stato del cielo resterà in genere variabile o nuvoloso per gran parte della giornata. Per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana ancora nebbia e nubi basse su pianura e costa e a tempo migliore invece in montagna per effetto dell'aria ammita in quota e ci sarà anche inversione termica. Martedì continueremo a avere copertura nuvolosa su pianura e costa con possibili deboli piogge sparse sulle zone orientali, nuvolosità variabile in quota. Dall'Osservatorio Meteorologico regionale, buon fine settimana a tutti.